musica 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 io porto in maniera molto fiera questa maglia però mi fa un sacco ciccioni questa canottiera ma perchè abbiamo appena fatto l'aperitivo si è proprio quello musica 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 come state? sigla musica 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 benvenuti da fada e barlo figli della merda imbattemi sul cazzo è un felice regresso a tutti voi dagli arcade boy ecco mi hai fregato in questo pomeriggio uggioso e piovoso non è vero ci sono 45 gradi non c'ho neanche le scarpe con caldo e bieli oh cazzo non ho la porteria ah no 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 ho fatto lukang hai visto lukang? si lukang va bene allora che andiamo a vedere oggi simo x simo x che abbiamo già visto in tu l'hai visto perchè non era ancora uscito loro non l'hanno ancora visto e ragazzo si è fatto un new challenge eppure la prendo è riuscito a farsi fare ed è riuscito ad entrare in arcade army ricordiamo tutti quanti che gli appli per arcade army sono pronti quindi se volete qua sotto c'è il link del suo video e c'è anche il link per l'appli in arcade army se volete invi- si l'appli apply forse si dice si apply senso un dio senza un dio senza un dio sempre meglio di ocar vai ecco guarda il granchio guarda il granchio si ma che eh vabbè ma c'hai cinquant'anni ma dove ti fai il coglione? magari dopo dice che ha scherzato ah stavo scherzando ok ma mazza eh ma si ma male che ha cambiato stile la cannabis si è cannetta a cinquant'anni però con il cappellino straight age non lo regali quel cappellino? su shuriken attitudine figo di me grande bravo alle righe no non parlo del carattere eh peppa peppa comunque non sono giovani eh lui è daffa che ha detto no alla coca si un po' che il tipo dietro non è raccomandabile io te lo dico non è neanche raccomandato no no il cannello manca aspetta no 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 sei chiare devi stare attento messaggio figo però il cannello non canta però no dai insieme a sti fantasmi che mi porto appresso che amante grezzo e il quartiere lu non conosco no grande mi piace o male appoggia eh no 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 mio padre mi ha dotato a calcio in te se vuoi che smetteste vuoi battermi come collo è arrivato te che vogliono fare il pop intanto votano salvi oh vabbè vabbè un ragazzo il salvinio è più il pop di tutti voi come come ma che il black questo mazzo lo sa popling che adesso fanno tutti i trap ooooo bello perchè non è un disignirante ma che mi sta perso che mi sta perso che mi sta perso che mi sta perso ma questo grido malandrino si grido malandrino la libertà non ha prezzo eh libertà con una b eh ricordiamolo assoluto un sacco a zato eh questo tipo di merda allora però il video non è male il video non è male la canzone ha un bel messaggio che ora adesso andiamo comunque a leggere il testo perchè secondo me può essere interessante qualcosa non mi piace il melodico non ti piacciono mai i melodici a te ti piace il melodico solo degli emoti clicchioni come te che fanno si eh quella è la mia non mi ha mandato il testo quindi niente speriamo addio che non c'è il testo voi non avete visto niente in bianco di ero parlo mi stava parlando di Andrea Roncato non vi dico da come siamo arrivati a fare di questo dopo aver visto questo video però allora fondamentalmente il messaggio è figo il messaggio è molto rap il messaggio è molti pop non mi piace alcune parole non mi piacevano come stavano sulla base tipo la gang del bosco mi sembrava una forzatura che del bosco è è anima che cazzo fai a rimo del cartello animati è una forzatura ma no una forzatura nel testo che hai parlato molto bene della situazione delle strade si si era una roba proprio bambinesca che non ci sta non serviva lui è vestito proprio a random proprio del mercatino si dà quello con la cangia la feppe del merda la maglietta la maglietta di New York da 3 euro va bene dai ecco è l'età dell'immagine non puoi mica presentarti così metti una cannottierina da picchia moglie un grills un bel grills in bocca un bel grills si fatti magari da mida Tucci Tucci mi fai d'argento che io li ho già gialli i denti mi li fai di ferro solo questi due sotto in mezzo ho capito no comunque il pezzo è carino un pezzo di quelli che ti ascolti la produzione non è male vabbè ma il ragazzo non è un ragazzo quindi fa la roba fine capito il ragazzo non è un ragazzo quindi hai la metà proiettata a una cosa un po' più seria quello di cui parliamo di solito però il ritornello nonostante la linea melodica a te facesse cacare proprio in petto ai pinguini era molto cioè GTA 5 io piuttosto che ascoltare una linea melodica del genere prego la madonna tutte le sere che mi porti via tutte le sere la madonna di Foge la preghi di Foge mi porti via in barese si no ti porti via con il tutto l'arroto il tutto l'arroto me che hai bevuto ho bevuto lo spritz ciao ciao ha ha ha